Ci troviamo nella via Oliveri a Sciacca, è la zona nella quale il giorno di Natale è avvenuto il crollo di un immobile abbandonato. La situazione la vedete dalle nostre immagini e ancora come era quel giorno l'area è stata transennata ma bisogna effettuare la rimozione, la messa in sicurezza della zona con ulteriori interventi che chiaramente dovranno eseguire i privati. Siamo con l'ingegnere Matteo Accardi che con il gruppo di ritrovarsi conosce bene questa zona del centro storico di Sciacca perché è qui che svolgono una serie di attività culturali soprattutto durante la stagione estiva. Ingegnere lei da tecnico come vede questa situazione anzitutto? In effetti è una duplice veste quella di oggi, però vorrei parlare della veste di Presidente dell'Associazione Ritrovarsi che da due anni fa una manifestazione che ha l'obiettivo di riqualificare questo posto. Anche se ovviamente c'è un trasporto personale, la gente ormai ci conosce qui in zona e quindi ha contattato noi perché era impaurita per la vicenda del crollo, dell'avvenuto crollo ed oggi è impaurita perché queste macerie a distanza di giorni sono ancora qui e non si sa chi li deve rimuovere e quando verranno rimosse. Secondo lei c'è anche una situazione di pericolo per quanto ancora è rimasto in piedi? Allora l'aria è stata esclusivamente perimetrata prima che avvenisse il crollo, dopo che è avvenuto il crollo tutto è rimasto così com'era, dalle immagini che prevedo, insomma voi proietterete, si vede ancora parte dell'edificio che è rimasto con dei puntelli che erano precedenti alla fase di crollo. Sì, secondo me va messo in sicurezza l'intero immobile e anche l'intero aggregato edilizio perché è una situazione comune a tutto il quartiere che richiede cura e attenzione. Questa è una zona riqualificata poco fa e notavamo, molta gente e soprattutto durante il periodo estivo ma non solo attraversa questa zona per raggiungere il quartiere di San Michele. Sì, questa è la via Oliveri che praticamente le persone che dalla Chiazza si dirigono a San Michele percorrono la via Triolo e subito dopo la via Oliveri. È frequentata giornalmente da tantissime persone ma proprio qui dove è venuto il crollo, lì è uno dei pochi slarghi dove i bambini trovano uno spazio adeguato per poter giocare. Quel giorno fortunatamente non c'erano bambini, l'aria era stata perimetrata però non è successo nulla. Ma questo non ci deve far dormire sogni tranquilli. È comunque una ragione in più per fare presto. Sì, fare presto. Io penso che la cosa che dispiace è il crollo che è avvenuto ma anche l'assoluto silenzio che c'è stato dietro questo crollo. Perché il crollo di un edificio è la parte finale di una forma di degrado secondo noi perché l'incuria, la difficoltà sociale di un territorio può essere migliorata, può essere risolta con degli interventi, con la presenza di associazioni come le nostre, di altre persone che se ne possono prendere cura. Ma quando all'interno di un quartiere per una situazione di abbandono e degrado avviene un crollo dell'edificio significa che c'è uno storico precedente che ha portato a un assoluto silenzio in quel luogo. Quindi secondo noi questo è un campanello d'allarme importante su cui la città tutta deve ragionare perché riguarda questo edificio ma riguarda il quartiere San Leonardo e probabilmente altri quartieri del nostro territorio e del centro storico.